Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, raga, prima di partire vi ricordo che se anche voi volete fare il provino per il mio team pagato, Paradise Official Team, è semplicissimo, vi basta solamente lasciare like a questo video, mi commentate con il vostro di sotto nei commenti e dovete assolutamente essere iscritti al canale, assolutamente, sapete raga che io ogni sera in live vado a fare i provini, perciò attivate anche la campanellina. Detto questo ragazzi, sapete oggi cosa succede? Hmm, indovinate un pochino raga, oggi finalmente raga, oggi ragazzoli annunceremo la prima stella del mio team, dei Paradise, secondo voi ragazzi chi sarà? Ditemi nei commenti prima di scoprirlo, secondo voi chi sarà la prima stella dei Paradise, ok, io vi dico solitamente una cosa, è un mostro, è una leggenda e ha fatto la storia, secondo voi chi sarà? Ok ragazzoli, prima di partire ragazzi vi chiedo solamente una cosa, dobbiamo per forza ragazzi minimo arrivare a 50 like per questa leggenda qua, minimo 50 like, va bene? Siete pronti ragazzi a scoprire chi è la prima stella dei Paradise? Alme 3, piccolo spoiler, 1, 2, 3, piccolo spoiler, boys. Ok, avete visto lo spoiler? Eh sì raga, avete capito bene chi è quindi, sì o no? Ditemi nei commenti, hashtag sì, hashtag no. Detto questo ragazzoli, andiamo ad annunciare la prima stella dei Paradise, let's go. Eccoci qua ragazzoli, avete letto bene, guardiamo un pochino chi ci abbiamo in lobby come nuovo membro dei Paradise, un saluto. Finalmente ragazzi la prima stella del team è stata annunciata, il vostro ragazzi Gorilla Nazionale, appunto molti di voi l'hanno indovinata nelle live, me lo dicevano sempre, però non ho voluto spoilere a nulla. Benvenuto nel team, dadde, benvenuto nel team. Grazie mille. Ha qualcosa da dire alla nostra community, dadde? Ha qualcosa da dire ai rosellini? Niente, che sono molto contento che mi hai offerto questa opportunità e mi impegnerò. Guarda, sono molto felice anch'io e sono davvero lieto di averti nel team, dadde. Per ragazzuoli andiamo appunto a vedere cosa è capace di fare dadde. Ok, daddino, ci siamo, adesso ti sto sflettando, dadde. Vediamo un po'. Oh, raga, no, 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 no va bene questo, non va assolutamente bene, raga, voglio scelto nei commenti un voto da 1,10 a signor dadde. Chat, un voto da 1,10 secondo voi per dadde. Quanto è forte, dadde, quante è forte. Mamma mia, guardate un pochino quante è forte. No, vabbè, raga, troppo forte, troppo più. Benvenuto nel team, daddino, davvero, grazie mille di aver accettato. C'è anche su-macht per la terra. Ovviamente, ragazzi, tranquillissimi, avete tutti quanti la possibilità di partecipare, ragazzi. Sappiate che nei prossimi giorni ci saranno davvero tantissimi nuovi format sul canale Nelle live soprattutto E quindi raga, fate una cosa Attivate quel campanellino delle notifiche Che è così gratuitamente, che è così bella E spaccante pure il suo suonino quando l'attivate Quindi raga, provate anche voi Ok, Dadde, lo sai l'ultima sfida che ti faccio fare quest'oggi qual è? Dimmi Ok, sei pronto a sfidare un mio abbonato? Sì Ok, così diamo la dimostrazione Che il dad del gorilla malintenzionato e sgravatissimo È veramente una bestia Ok, ci siamo, andiamo a invitare un abbonato Allora, vediamo un pochino chi ci abbiamo online Ok, c'è lui, ok, c'è Musa, c'è Musa C'è già a sfidare Musa, bro Attenzione, l'avevo visto qualche volta oggi C'è davvero bravino Vediamo un pochino, sì sì, davvero bravino Eccolo qua, sei unito Bella Musa Bella Lo sai oggi cosa andiamo a fare Musa? Ti ho invitato appunto, perché appunto lo sai Te lo spoiler in anticipo Dadde è il nuovo membro dei Paradise Oggi tu lo andrai a sfidare Ti va bene? Perché no? Ok Perfetto, perfetto Allora ragazzoni, mettiamo pronto E buttiamoci in creativa Let's go Sono davvero curioso di vedere Chi vince tra il daddega nazionale Il nuovo membro dei Paradise E il nostro, carissimo abbonato Musa Ok Ok, è partito, è partito il daddega nazionale Attenzione ragazzi, non lo ferma più nessuno Oh Eh Attenzione, il daddega nazionale Ok, cerca di sparare il Musa Attenzione Però evita il colpo, dadde Ok, gli edita Cento 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 L'ha rotto, raga L'ha rotto Ok, daddino nazionale Ok, un altro hit li ha tirato Attenzione ragazzi, Musa Ok, niente ragazzi 1-0 per il daddega Io ragazzi, una lag Ok Mamma mia, mamma mia Mamma mia Ragazzi, veramente Mi gaso troppo a vederlo giocare Ok, sì, sì Ok, gli ha tirato cento Aha Ok, questo gli prende il muro Già va Vediamo Sì, sì, sì Siccome sì Uh, gg per daddega 2-0 per il daddega Ah, gg Beh, per ora in build Facili direi anche 9 Perché mi sta abbastanza anche trollant Attenzione Si rivela Dice la verità Il nostro Me ne sono accorto Ci sta, ci sta Attenzione Vediamo, vediamo Uh, raga Dadd prende l'hit Vediamo come se la cava, raga È in un panino È letteralmente ragazzi Incastrato dadd Oh, gg No, raga Gg E tra 0 per il daddega È iniziato come se la cava Let's go Guardate questo ragazzuoli Io vi chiedo un minimo 100 like E soprattutto voglio chiedere il parere di Musa Musa, scontè Merita di star nei paradisi Il nostro dadd nazionale O no? Sì, sì Sì, sì Ok, perfettissimo Allora ragazzuoli Noi ci vediamo in un prossimo video O in un prossimo live Detto questo Bella boys E bella guys It's uh